Benvenuto su Usign. Quando crei un invito a firmare, puoi aggiungere diversi campi che ti permettono di completare il tuo documento prima di inviarlo per la firma. Scopriamo insieme i campi più utilizzati. Il campo di firma è essenziale, consente l'inserimento delle informazioni dei partecipanti e materializza la loro firma sul documento. Dovrai quindi aggiungere tanti campi di firma quanti sono i partecipanti all'invito. Puoi aggiungere una persona già presente nella tua rubrica o inserire direttamente le informazioni di un nuovo partecipante a partire dal campo di firma sul documento. Il campo menzione semplifica l'aggiunta di menzioni come letto e approvato direttamente sul documento. Questo ti dà la certezza che la menzione rispetti una certa formattazione, evitando l'inserimento manuale da parte dei partecipanti. Infine, il campo di testo permette di chiedere ai partecipanti di inserire delle informazioni aggiuntive direttamente sul documento da firmare. Tutto quello che dovrai fare sarà chiedere al partecipante le informazioni desiderate, che devono inserire prima di poter firmare il documento. È tutto per oggi! Eh sì, far firmare i tuoi documenti non è mai stato così semplice!